Quali sono le novità sulla cura della leucemia linfatica cronica presentate al recentissimo congresso dell'EHA che si è svolta a Madrid e relativa ai farmaci del gruppo Johnson & Johnson? Ce le siamo fatti raccontare da una vera esperta dalla dottoressa Anna Maria Frustaci che abbiamo incontrato qui a Milano nel corso di un evento che ha fatto il punto proprio su questi temi. Dottoressa Frustaci, incominciamo con l'utilizzo di ibrutinib in monoterapia. Innanzitutto in quali pazienti li utilizzate da solo, con quali vantaggi clinici e quali sono i dati nuovi presentati a Madrid che come ci ha anticipato in conferenza stampa sono molto interessanti. Allora ibrutinib è il primo degli inibitori di BTK che abbiamo utilizzato sia negli studi clinici ne abbiamo partecipato al Resonet 2 che è lo studio poi approvativo della prima linea, sia in pratica clinica il primo inibitore BTK approvato. Ne va da sé che i dati di brutinib sono i dati più corposi che abbiamo per questa patologia, per questa categoria di farmaco. Allora i dati che sono stati presentati a Madrid sono dati a lungo termine ma non è solo un discorso di osservazione del farmaco, gli effetti collaterali, adesso ne parliamo anche, ma anche il fatto che noi sappiamo che un paziente che comincia in prima linea, quindi non è stato mai trattato, in prima linea comincia con ibrutinib, ha un tempo libero di progressione che vuol dire questo, più della metà dei pazienti è in risposta al farmaco, continua la terapia in risposta senza andare incontro a una progressione di malattia a circa nove anni. Che cosa vuol dire poi in termini pratici per i nostri pazienti? Questa è una patologia tipicamente dell'anziano, insorgono con una mediana di circa 70 anni, il paziente non viene subito trattato, quindi dalla diagnosi andrà incontro, dopo qualche anno al trattamento, quindi andrà incontro a un trattamento oltre 70 anni per la maggior parte dei pazienti. Se io ho un farmaco che utilizzo in prima linea su una persona che ha più di 70 anni e so di aspettarmi almeno circa nove anni di remissione e poi dopo avrò altre terapie, vuol dire che questo paziente probabilmente non morirà di questa malattia, morirà di altro, trovare una sopravvivenza che è paragonabile a un paziente che non ha una malattia oncologica del genere. Oltretutto i dati del Resonate 2 ci fanno vedere come non ci sono degli eventi inattesi con l'ibrutinib a distanza di così tanto tempo, quindi terapia continuativa che continua ad essere ben tollerata anche a distanza di anni. E dal punto di vista della sicurezza cardiovascolare quali sono i dati? Sono rassicuranti? Allora conosciamo bene gli effetti cardiovascolari di brutinib così come degli altri inibitori BDK, sono effetti che si presentano ai pazienti. Vanno spiegati al paziente nel senso che nessuno degli effetti cardiovascolari, tutti gli effetti cardiovascolari sono ben gestibili, vanno conosciuti dal paziente e vanno spiegati dal medico. Sono degli effetti che con l'ibrutinib si manifestano con una temporarietà abbastanza definita, nel senso che generalmente insorgono durante il primo anno di terapia, poi vanno progressivamente a ridursi come incidenza, quindi sono degli effetti che sappiamo anche quando possono intervenire. L'altra cosa di brutinib è che abbiamo conoscenza del fatto che noi possiamo anche modulare il dosaggio del trattamento in maniera efficace, senza compromettere l'efficacia della terapia, quindi anche la riduzione di ose può essere una strategia efficace nei pazienti di trattamento. Ecco, poi c'è l'altro utilizzo che mi sembra molto interessante, dell'ibrutinib in associazione con il venetoclax. Perché associare questi due farmaci? Vi ha spiegato che c'è addirittura una sinergia, non solo un effetto sommatorio e quali sono i risultati che si ottengono? Allora, quando noi sommiamo l'ibrutinib e il venetoclax, va da sé che chiaramente sommiamo due molecole che hanno due target diversi, quindi chiaramente ci sarà un effetto additivo come diceva lei. Ma la bontà, il vero vantaggio di questa combinazione è che l'effetto non è solo additivo, ma come dicevamo è sinergico. Questo perché gli brutinib e i venetoclax si aiutano. Tendenzialmente ci sono delle aree, delle zone colpite della malattia che sono meno raggiungibili da parte dei farmaci. Parlo per esempio dei linfonodi. È molto noto che nei linfonodi, così come nel midollo osso, ci sia una sorta di microambiente, quindi delle cellule che proteggono le cellule del tumore. L'azione combinata di brutinib e venetoclax in parte sopprime questa azione del microambiente perché fa sì che da un lato l'ibrutinib riesca a decompartimentalizzare, cioè mandar fuori dal linfonodo le cellule malate. Queste cellule malate arrivano nel torrente ematico e vengono attaccate in maniera molto efficace dal venetoclax. Quindi questo è innanzitutto un enorme meccanismo d'azione. Svuotiamo quelle nicchie protettive per mandarle ad essere più sensibili nel torrente ematico. In più, proprio l'ibrutinib è in grado di sensibilizzare le cellule tumorali all'azione del venetoclax, quindi vengono colpite di più in maniera più potente. Ecco, l'altra cosa interessante che le ha spiegato è che si tratta di una terapia durata fissa. Quanto dura questa terapia e quali sono i vantaggi della durata fissa, al di là di quello che uno si può immaginare? Allora, è una terapia che dura 15 mesi perché vengono fatti i primi tre mesi con solo l'ibrutinib e successivamente un anno con l'associazione con il venetoclax. Si comincia con l'ibrutinib perché l'ibrutinib, a differenza del venetoclax, non tende a dare quella che è la lisitumorale, quindi un'azione che poi di fatto è un effetto collaterale ma un effetto collaterale di efficacia. Il farmaco colpisce le cellule tumorali e questi danno una serie di effetti collaterali legati a una distruzione della massa tumorale. Questa massa tumorale si riduce in maniera molto netta cominciando a radere via con l'ibrutinib e questo si è visto bene dai due studi approvativi del CAPTIV e del GLOW in cui la maggior parte dei pazienti riduce la categoria di rischio di disitumorale e arriva a fare il venetoclax con una categoria di rischio più bassa. I pazienti non vengono ospedalizzati e questo è chiaramente un vantaggio enorme e negli studi non sono stati dimostrati sindromi di disitumorale, quindi innanzitutto c'è un effetto di sicurezza. È una terapia che comunque per i motivi che diciamo prima funziona in maniera sinergica, quindi i risultati che sono stati presentati dal CAPTIV e aggiornati sia al congresso americano che a quello europeo mostrano un follow up che in questo momento è di 5 anni e mezzo, quindi che vuol dire? Vuol dire aver fatto poco più di un anno di terapia e almeno 4 anni liberi di trattamento e quello che vediamo è che i pazienti non vanno incontro a progressione, non vengono ritrattati e addirittura pazienti ad alto rischio biologico di malattia, che sono quelli su cui oggettivamente siamo più in dubbio se utilizzare una terapia durata fissa rispondono bene a questo trattamento. Senti, adesso oggi è spontanea la domanda, ma sarà a questo punto la terapia per tutti, l'associazione tra i due farmaci? Allora, diciamo che in generale in medicina c'è una tendenza ad andare verso la terapia fissa perché è un discorso economico, un discorso per il paziente, un incorso proprio di impatto sul sistema sanitario internazionale. Allora, secondo me adesso in questo momento dire che è una terapia per tutti è difficile perché abbiamo bisogno di dati veramente a lungo termine, li abbiamo per la monoterapia, non li abbiamo ancora per l'associazione, per quanto siano comunque dei follow up ragguardevoli. Diciamo che va visto anche l'obiettivo del paziente, c'è una quota di pazienti anche molto anziani, sopra gli 80 anni, che probabilmente beneficia in una terapia monoterapia continuativa, sono pazienti che sono abituati a fare più farmaci, quindi non è un grande peso, aggiunge una terapia che diventa durata, una terapia voglio dire continuativa con un solo farmaco, con un impatto in effetti collaterali, una buona qualità di vita. Quindi i brutti di da solo? Il brutti di da solo può essere una strategia in quel paziente in cui vuoi tenere sotto controllo la malattia, non ritrattare la persona e non necessariamente ha bisogno di dare una durata fissa e quindi un periodo limitato di terapia. La durata fissa allora per chi? Sicuramente la durata fissa è adatta nei pazienti più giovani, nei pazienti che hanno bisogno, anche questa è un'esigenza del paziente, di avere dei periodi in cui si allontanano all'ospedale, cioè non hanno necessità di fare dei controlli periodici. È una terapia molto efficace in pazienti con categorie di rischio anche importanti, in cui noi diamo subito una terapia combinata, attiva, ma perché importante? Anche perché questi pazienti quando, se dovessero essere ritrattati, non sviluppano resistenze e questo è uno dei fattori più importanti dell'infatica cronica. Questa è una malattia cronica andando incontro a più linee terapeutiche. Se tu dai due farmaci per i quali in questo momento non sono state dimostrate, lo sviluppo di mutazioni di resistenza, gli permette di essere ritrattati, quindi oggettivamente è una strategia da pensare, non solo per un grado di fitness o per il paziente che vuole fare la sua vita, ma anche per il paziente che ha in mente e abbia davanti un programma importante, quindi possa essere ritrattato e con questo tipo di combinazioni viene ritrattato in maniera sicura.